l'anno scorso. Torniamo in Italia, Monsignor Domenico Battaglia è il nuovo arcivescovo di Napoli, prende il posto del Cardinale Sepe che lascia per limiti di età. Enzo Romeo. Domenico Battaglia ha 57 anni, dal 2016 era vescovo di Cerreto Sannita, Telese, Sant'Agata de Goti, ora Papa Francesco gli affida l'Arcidiocesi di Napoli, prenderà il posto del Cardinale Crescenzio Sepe che lascia per limiti di età dopo quasi tre lustri. La nomina annunciata poco fa dalla Santa Sede, Don Mimmo, come tutti lo conoscono, è calabrese di Satriano in provincia di Catanzaro, qui aveva fama di prete di strada impegnato a favore di emarginati e tossicodipendenti, è stato anche presidente della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche, ecco cosa dichiarava quando era alla guida del centro calabrese di solidarietà. Noi siamo per la solidarietà ma la solidarietà non può esistere se non c'è giustizia sociale. A Cerreto nell'insediarsi il suo primo atto prima ancora di giungere in cattedrale fu la visita al vicino carcere minorire di Airola. L'augurio che vorrei fare a tutti è che la vita ogni giorno possa trovarci sempre in piedi, in piedi con le mani elevate al cielo, non in segno di resa ma in segno di resistenza, capacici ogni giorno di lottare e di sperare sempre. Grazie. 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 Grazie.